Voglio fare la mia parte in questo costruzionismo che il centrodestra con Patto sta facendo per tentare di impedire l'approvazione di questo decreto in sicurezza, cioè della ennesima porcata con la quale questo Governo cerca di far guadagnare miliardi di euro agli scafisti alla tratta degli schiavi del terzo millennio, riempiendo l'Italia e non solo di immigrati clandestini. Io dovrei argomentare le ragioni del nostro no, dovrei entrare nel merito e provare a far finta che quello che si sta svolgendo in quest'Aula sia un confronto tra modi diversi ma entrambi illegittimi di voler governare i flussi migratori. Ma non lo farò, Presidente Fico. Non lo farò banalmente perché non c'è nulla di sensato in quello che state facendo. Non c'è nulla che possa ragionevolmente essere considerato un tentativo di governare un fenomeno complesso come quello dell'immigrazione irregolare. E la maggioranza lo sa bene. Lo sa nella misura in cui sono anni che tenta di scappare da questo confronto. Chiunque abbia tentato di fare domande banali è stato considerato o tacciato di essere xenofobo, razzista, di non volere guardare il diverso da sé. Eppure, vede, non erano domande difficili. Ma la verità è che la sinistra sa che quello che sta accadendo altro non è che figlio di un delirio ideologico. Ed è la risposta migliore a questa domanda, perché la risposta peggiore è che quello che sta accadendo è figlio di una sinistra ormai totalmente prona agli interessi della grande speculazione finanziaria, del grande capitale e di quelli che usano centinaia di migliaia di disperati per produrre un'omologazione nelle società e per rivedere al ribasso i diritti delle persone. Questa è la risposta peggiore. Però, vede, uno pensa sempre che magari si sbaglia. Non mi parevano difficili le domande che abbiamo fatto in questi mesi, ma io capisco che la sinistra abbia un problema a rispondere. Mi rendo conto che sia difficile riuscire a spiegare agli italiani perché mentre ci sono milioni di disperati per a causa dell'emergenza Covid e migliaia di problemi dei quali occuparsi, il Parlamento della Repubblica Italiana non si occupa di quei milioni di italiani che pagano lo stipendio a questi parlamentari e si sta occupando degli immigrati. Mi rendo conto che sia difficile spiegarlo. Mi rendo conto che sia difficile spiegarlo. Perché mentre il contagio corre in tutto il mondo, noi invece di difendere i nostri confini, li spalanchiamo. Mi rendo conto che sia difficile spiegare la ragione per la quale, mentre agli italiani diciamo che verrà impedito il passaggio da una regione all'altra e da un comune all'altro, invece agli immigrati consentiamo il passaggio da una nazione all'altra o da un continente all'altro. Mi rendo conto che sia difficile spiegarlo.